Ciao ragazzi! Sono passati 35 anni da quando Nintendo pubblicava in Giappone il primo capitolo della saga Super Mario Bros. E da allora il simpatico idraulico ha dovuto affrontare sfide di ogni tipo, sia in 2D che in 3D. Ecco, esattamente come accadde con Super Mario All-Stars che debuttava sul Super Nintendo Entertainment System nel lontano 1993 e che raccoglieva i primi 3 Super Mario Bros. più The Lost Levels, che erano giochi platform in due dimensioni, Nintendo, ora per festeggiare il 35esimo anniversario di Super Mario Bros., ha replicato la formula concentrandosi però sugli episodi in 3D, da cui il nome Super Mario 3D All-Stars. La casa nipponica ha impacchettato per la sua console ibrida Nintendo Switch i tre giochi 3D di maggiore importanza per la saga. Super Mario 64, che debuttava su Nintendo 64 nel 1996, Super Mario Sunshine che veniva rilasciato per GameCube nel 2002, e Super Mario Galaxy che arrivava su Nintendo Wii nel 2007. Tutti e tre questi capitoli sono serviti sia come portabandiera per le rispettive console di debutto così da mostrarne le peculiarità, sia come fondamenta per lo spettacolare Super Mario Odyssey sbarcato su Nintendo Switch nel 2017. E a differenza della collezione storica di 27 anni fa, i cui giochi erano sostanzialmente uno l'evoluzione dell'altro con modalità di gioco prestoché identiche, in questa nuova collezione sono presenti tre titoli che sono in realtà molto differenti tra loro. Super Mario 64 ha definito un intero genere, quello dei platform 3D. Ha introdotto tutti quegli elementi che oggi diamo per scontati in giochi appartenenti alla categoria, ma che all'epoca, 24 anni fa, non si erano mai visti. Nei panni di Mario, il giocatore dovrà esplorare il castello della principessa Peach per salvarla da Bowser. Il gioco è un open world, con gradi di libertà su tutti e tre gli assi dello spazio. Le aree di gioco sono relativamente grandi e composte principalmente da veri poligoni 3D invece che le allora classiche sprite bidimensionali. Il giocatore è spinto ad esplorare i mondi che gli si presentano e nei quali dovrà completare varie missioni oltre ad occasionali percorsi ad ostacoli lineari, quelli tradizionali dei giochi piattaforma. Lo sviluppo di Super Mario 64, gestito da Nintendo EAD, è durato circa tre anni, uno dedicato alla sola progettazione ed i successivi due allo sviluppo. Il desiderio era quello di includere più dettagli rispetto ai giochi precedenti. Super Mario 64 è stato uno dei giochi di lancio per Nintendo 64 e guardarlo con gli occhi di oggi, abituati a ben altre meraviglie, fa un po' sorridere nel suo essere così naif e per la gestione ostica delle telecamere. Però Super Mario 64 rimane uno di quei titoli acclamati come uno dei più grandi videogiochi di tutti i tempi, nonché è stato il primo gioco a ricevere un punteggio di 10 su 10 sulla rivista Edge. Ne è stata elogiata l'ambientazione, il design, il gameplay e la musica sebbene appunto ne sia stato criticato il sistema di telecamere che è poco affidabile. È sicuramente uno dei best-seller del Nintendo 64, con più di 11 milioni di copie vendute entro il 2003 ed ha condizionato l'intero campo del game design 3D grazie al suo sistema di telecamere dinamico e al controllo analogico a 360 gradi, stabilendo un nuovo archetipo per il genere 3D proprio come Super Mario Bros. fece per i platform a scorrimento laterale 2D. Nel gioco Mario dovrà attraversare vari livelli in cui il giocatore è libero di vagare in tutte le direzioni e scoprirne l'ambiente senza limiti di tempo. I livelli sono pieni di nemici che possono attaccare Mario, nonché ci sono creature amichevoli che forniscono assistenza, informazioni o chiedono favori. Lo scopo è quello di raccogliere le stelle nascoste in ogni livello. Alcune compaiono solo dopo aver completato determinate attività, attività che includono sconfiggere un boss, risolvere enigmi, gareggiare con avversari o raccogliere monete. Man mano che vengono raccolte le stelle, sempre più aree del castello diventano accessibili. Poi ci sono alcune porte che possono essere sbloccate solamente con le chiavi che Bowser lascia cadere quando lo si sconfigge in livelli speciali. Non mancano chiaramente mini livelli o livelli nascosti, più tanti altri segreti che consentono di sbloccare stelle extra necessarie se si vuole completare il gioco al 100%. In puro stile Super Mario Bros. anche qui ci sono dei potenziamenti che compaiono in determinate aree. Il Wing Cap permette a Mario di volare. Il Metal Cap lo rende immune alla maggior parte dei danni, gli permette di resistere al vento, camminare sott'acqua e non essere ferito dai gas nocivi. Il Vanish Cap lo rende parzialmente immateriale così da poter attraversare alcuni ostacoli come le reti metalliche oppure essere invulnerabile ad alcuni tipi di attacchi dei nemici. Inoltre ci sono abilità in Super Mario 64 che sono completamente differenti da quelle dei precedenti capitoli 2D. Mario può camminare, correre, saltare, accovacciarsi, gattonare, nuotare, arrampicarsi, calciare o dare pugni. Salti speciali possono essere eseguiti combinando un salto normale con altre azioni, inclusi salti doppi e tripli, salto in lungo e salto mortale all'indietro. Ci sono anche manovre speciali come il salto sul muro per raggiungere aree che altrimenti sarebbero troppo alte. Mario può anche raccogliere e trasportare determinati oggetti, abilità che viene utilizzata per risolvere enigmi o nuotare sott'acqua a varie velocità. E sott'acqua Mario trattiene il respiro ma la sua energia diminuisce lentamente. Se tutto questo vi suona familiare, ad esempio perché avete giocato Super Mario Odyssey, beh, è perché è da Super Mario 64 che nasce tutto. Stiamo parlando di uno dei pilastri del mondo dei videogiochi, nonostante presenti una trama che fondamentalmente non esiste. La storia infatti inizia con una lettera della principessa Peach che invita Mario ad andare al suo castello per una torta che gli ha preparato. Ma quando arriva, Mario scopre che Bowser ha invaso il castello ed ha imprigionato la principessa assieme a tutto il personale di servizio, sfruttando il potere delle 120 Power Star del castello. Molti dei dipinti appesi ai muri sono portali per altri mondi, in cui i servi di Bowser vegliano sulle stelle. A quel punto, come abbiamo detto, Mario dovrà esplorare tutto il castello e recuperare le varie stelle, fino a sconfiggere definitivamente il cattivone e liberare la principessa Peach, la quale, per premiarlo, lo bacerà sul naso e gli preparerà veramente la torta promessa. Ora, per la collezione, Nintendo ha deciso di mantenere il gioco il più fedele possibile all'originale. Non si tratta di un remake come è accaduto per altri titoli del passato che sono tornati in vendita negli ultimi anni penso alla trilogia di Crash Bandicoot o Spyro. No, qui Nintendo ha deciso di preservare il prodotto di un tempo, persino il suo four-factor in quattro terzi contando di bande nere ai lati. Partendo però non dalla versione originale del 1996, ma da quella ripubblicata nel 1997 e portata nel 2006 anche sulla Virtual Console di Wii. Quella versione, rispetto all'originale, è stata aggiornata in HD, cosa che consente di farci apprezzare la vecchia gloria a 720p, sia in modalità docked che portatile, entrambe però limitate ai 30fps. Comunque, passano 8 anni, è il 2002, e Nintendo ha una nuova console in commercio, perciò non può mancare un secondo platform 3D nella saga di Mario. Ecco Super Mario Sunshine. Questa volta il gioco si svolge sull'isola tropicale Delfino, dove Mario, Toad e la principessa Peach sono andati in vacanza. Ma un cattivo che assomiglia a Mario, noto come Shadow Mario, sta vandalizzando l'isola con brutti graffiti, cosa che porta all'ingiusta condanna del nostro eroe per i disordini. Così Mario dovrà ripulire l'isola Delfino usando un dispositivo chiamato Flash Liquidizer Ultra Dowsing Device o FLUDD, nonché salvare la principessa Peach che viene catturata da Shadow Mario. Rispetto a Mario 64, Sunshine stravolge un po' le meccaniche di gioco, ma ha comunque ricevuto il plauso della critica con particolari elogi per grafica, colonna sonora e per l'idea del FLUDD. Purtroppo sono rimaste le critiche per la gestione delle telecamere, che effettivamente non sempre sono all'altezza della situazione. Il gioco ha comunque venduto oltre 5 milioni di copie in tutto il mondo prima del 2006, divenendo uno dei giochi GameCube più apprezzati. Come dicevo, Super Mario Sunshine condivide molti elementi di gioco con il suo predecessore, Super Mario 64, ma introduce delle nuove features. I giocatori ovviamente controllano Mario, mentre cerca di ottenere le 120 Shine sprites che servono per riportare la luce sull'isola Delfino, nonché dimostrare la sua innocenza dopo che Bowser Jr., travestito da Shadow Mario, le ha rubate ed ha coperto l'isola di Melma Tossica. Sunshine ruota attorno al lab principale che consente l'accesso a vari mondi tramite portali che diventano disponibili man mano che il gioco procede. Esattamente come accadeva con le stelle in Super Mario 64, i giocatori ottengono le stelle completando vari obiettivi dati a Mario all'ingresso di ogni livello, nonché quelli sbloccati dopo il loro completamento. Ci sono anche varie aree nascoste e sfide che consentono di ottenere ulteriori Shine sprites. Infine, durante il gioco i giocatori possono trovare delle monete blu scambiabili nella rimessa delle barche per altre stelle. Sunshine si differenzia da Mario 64 pur riprendendone diverse meccaniche, principalmente perché Mario è affiancato da uno zaino robotico, il Flood, che utilizza acqua per ripulire via graffiti e melma tossica oltre che aiutarlo a raggiungere nuove aree di gioco. Il Flood, infatti, può passare rapidamente tra più modalità d'uso. Con una configurazione, Mario può spruzzare getti d'acqua per ripulire l'area attorno a sé, oppure attaccare i nemici o attivare determinati meccanismi. Con un'altra configurazione, egli può librarsi in aria per un breve periodo di tempo così da attraversare aree più grandi e contemporaneamente spruzzare acqua sotto di lui. Man mano che il gioco procede, Mario sbloccherà nuove modalità d'uso del Flood, così da ad esempio sparare acqua in alto oppure muoversi ad alta velocità così da poter correre sull'acqua o irrompere in determinati luoghi. Ovviamente l'acqua a disposizione è limitata, quindi il serbatoio del Flood va riempito tramite mari, fiumi e fontane. In alcuni punti del gioco Mario può anche combattersi in Yoshi, che può essere cavalcato e può attaccare sputando succo di frutta. Succo che può eliminare alcuni ostacoli che l'acqua non è in grado di superare. Yoshi, come da tradizione, può anche usare la sua lingua per mangiare nemici o altri pezzi di frutta e dovrà farlo, altrimenti scomparirà se rimarrà senza riserva di succo, o anche se cadrà in acque profonde. Il succo viene reintegrato mangiando la frutta. Ci sono voluti molti anni per arrivare a Sunshine, dopo diversi progetti che sono stati cancellati come Super Mario 64 II e Super Mario 128, alcune delle idee che Nintendo aveva per un sequel diretto di Super Mario 64. Dopodiché lo sviluppo è partito con l'idea di un gameplay che coinvolgesse una pompa d'acqua. C'erano 10 candidati per possibili strumentazioni da consegnare a Mario, e Flood è stato scelto perché si adattava meglio con l'ambientazione vacanziera. Sunshine, visto con gli occhi di oggi, risulta forse un po' tra virgolette strano, con tante scene a modi stacchetti che non sono sempre all'altezza ed un gameplay che potrebbe non esaltare il giocatore, anche se comunque non troppo distante da quello del suo predecessore. Per la collezione, Nintendo ha dovuto modificare un pochino l'interazione con il gioco. Come dicevamo, i tre titoli sono stati i portabandiera delle rispettive console con cui sono stati lanciati, e Sunshine era modellato sul controller del GameCube. Visto che la versione per Switch non supporta il controller per GameCube, non può utilizzare i trigger analogici di quel gamepad per regolare la pressione dell'acqua del Flood. Così ora il Flood deve essere controllato con le levette destre per mirare con precisione mentre si è fermi oppure per sparare acqua mentre ci si muove. A parte ciò, il formato è stato portato da 4 terzi a 16 noni e la risoluzione è salita fino al 1080p, perlomeno in modalità Togged, rimane 720p importatile e nuovamente c'è il limite dei 30fps. Passano altri 5 anni e per l'allora nuova console del produttore nipponico, Nintendo Wii, non poteva mancare un nuovo capitolo 3D per la saga di Super Mario. Super Mario Galaxy è perciò il terzo gioco in tre dimensioni della serie. Nuovamente nei panni di Mario, il giocatore dovrà intraprendere una missione per salvare la principessa Peach, salvare l'intero universo da Bowser e raccogliere 121 Power Stars. Ma questa volta la formula di gioco cambia completamente rispetto al passato. Niente più open world, nei livelli ampli da esplorare, ora i livelli sono costituiti da galassie piene di pianeti di piccole dimensioni che hanno diverse variazioni di gravità, elemento centrale del gameplay. Nintendo EAD ha iniziato a sviluppare Super Mario Galaxy alla fine del 2004. Il concetto di usare piattaforme sferiche nasceva da idee studiate per l'abbandonato Super Mario 128. Nintendo voleva rendere il gioco attraente per i giocatori di tutta l'età, e al team di sviluppo fu concessa più libertà nella progettazione rispetto ad altri titoli della saga. Anche la colonna sonora ha avuto un primato rispetto al passato. Per la prima volta è stata utilizzata un'orchestra sinfonica per registrarla. Super Mario Galaxy è stato un successo di critica e a livello commerciale, salutato come uno dei più grandi videogiochi di tutti i tempi. È infatti il gioco con il punteggio più alto di sempre sul sito di aggregazione e di recensioni Game Rankings. Ha ricevuto il plauso generale della critica che ne ha alloggiato la grafica, la meccanica della gravità, la colonna sonora e l'ambientazione. Il titolo ha vinto numerosi premi, tra cui diversi titoli gioco dell'anno da parte di tante addestate specializzate, ed è anche diventato il primo titolo Nintendo a vincere il British Academy Games Award come miglior gioco. È il nono gioco Wii più venduto al mondo, con un fatturato di quasi 13 milioni di dollari. Un sequel, Super Mario Galaxy 2, è stato rilasciato per Wii nel 2010, e purtroppo è assente in questa collezione. Come anticipato, Galaxy è ambientato nello spazio dove Mario viaggia attraverso diverse galassie per raccogliere le famose stelle, ottenendole completando missioni, sconfiggendo boss o raggiungendo particolari aree di gioco. Ogni galassia contiene planetoidi e strutture orbitanti che il giocatore può esplorare, ed ogni oggetto astronomico ha una propria forza gravitazionale che consente al giocatore di circumnavigarlo completamente camminando di lato o a testa in giù. Il giocatore solitamente può saltare da un oggetto e cadere verso un altro lì vicino, e sebbene il gameplay principale sia in 3 dimensioni, non mancano aree in cui i movimenti sono limitati al piano bidimensionale. Il fulcro del gioco è il Comet Observatory, un'astronave che contiene 6 cupole che forniscono l'accesso alla maggior parte dei livelli di gioco, ed ogni cupola contiene 5 galassie. 5 di queste cupole terminano con un livello Boss, in cui l'obiettivo è sconfiggere Bowser o Bowser Jr. e guadagnare una Power Star speciale nota anche come Grand Star che dà al giocatore l'accesso alla cupola successiva. Man mano che vengono raccolte le Power Stars, più galassie e stelle diventano esplorabili. Il giocatore ottiene la possibilità di giocare come Luigi dopo aver raccolto 120 Power Stars come Mario. Se si raccolgono tutte le stelle con entrambi i personaggi, il giocatore riceve un'ulteriore sfida che, al termine, assegna al giocatore l'ultima stella e due immagini commemorative dei personaggi. La maggior parte delle abilità di Mario sono prese direttamente da Super Mario 64, come il salto in lungo, i salti sul muro ed una varietà di salti mortali. Però è presente una nuova funzione chiamata Star Pointer che, all'epoca di Wii, sfruttava il sensore di movimento del controller per essere controllata. Nella versione per Switch tale comportamento è imitato dai sensori presenti nei Joy-Con o nel Pro Controller. In modalità portatile, invece, i giocatori possono utilizzare il touchscreen per eseguire la stessa azione, azione che consente di raccogliere oggetti speciali a forma di grenelli di zucchero chiamati Star Beats, i quali possono essere sparati per stordire i nemici, per superare ostacoli, oppure per nutrire gli Angry Lumas, esseri senzienti a forma di stella. Lo Star Pointer può essere usato anche per agganciarsi a piccoli oggetti blu chiamati Pool Stars che consentono a Mario di trascinarsi nello spazio. In alcuni livelli che racchiudono il giocatore in bolle fluttuanti, lo Star Pointer viene utilizzato per soffiare il vento e manovrare la bolla. Ci sono poi altre meccaniche che il giocatore imparerà man mano che avanza nel gioco e che gli consentiranno di superare vari ostacoli di difficoltà crescente, e non mancano 9 potenziamenti tra funghi e stelle di vario tipo che conferiscono a Mario abilità temporanee. La salute di Mario è misurata con 3 pezzi che si esauriscono col contatto con nemici e con gli altri pericoli. Quando nuota sott'acqua, Mario ha un misuratore di rifornimento d'aria che va a diminuire la salute principale se si esaurisce. Quando l'indicatore della salute si svuota, il giocatore perde una vita e deve tornare ad un punto di controllo predeterminato. L'indicatore della salute può espandersi temporaneamente a 6 unità tramite l'uso di un fungo speciale, mentre la morte istantanea può avvenire se si viene ingoiati da sabbie mobili o dalla materia oscura, oppure se si viene schiacciati da ostacoli o cadendo in buchi neri o altri pozzi senza fondo. Il giocatore può ottenere vite extra raccogliendo funghi 1UP, 50 monete senza perdere una vita o 50 Star Beats. Se molte di queste cose vi ricordano qualcosa è perché sono state fondamentalmente ereditate pari pari in Super Mario Odyssey. Galaxy, infine, ha anche un'opzione cooperativa per due giocatori chiamata CoStar in cui il giocatore controlla Mario e l'altro controlla lo Star Pointer per raccogliere le Star Beats e per sparare ai nemici. Il secondo giocatore può anche far saltare Mario, oppure contribuire a modificare l'altezza del salto se il primo e il secondo giocatore premono contemporaneamente il rispettivo tasto. Insomma, un qualcosa poi ripreso per Cappy, sempre in Odyssey. Come per tutti gli altri episodi, la trama fa più che altro da contorno per giustificare le peripezie di Mario quelli nell'universo. Comunque tutto è legato al Festival Centenario delle Stelle, durante il quale la principessa Peach scopre una creatura a forma di stella chiamata Luma ed invita Mario al castello per vederla. Proprio mentre Mario sta arrivando, Bowser invade il Regno dei Funghi con una flotta di dirigibili, quindi cattura Peach e rimuove il suo castello usando un gigantesco disco volante, portando tutto con sé nello spazio. Kamek, uno dei servi di Bowser, lancia Mario ed i suoi amici nello spazio facendoli però atterrare su un piccolo pianeta che è l'unico ad essersi salvato dalle grinfie del male. Qui Mario incontrerà Rosalinda ed i suoi compagni Lumas. Rosalinda è un'osservatrice delle stelle che utilizza il Comet Observatory per viaggiare nell'universo. Tuttavia, Bowser ha rubato tutte le stelle che fanno da carburante all'osservatorio stesso, rendendolo immobile. Mario dovrà intraprendere un viaggio attraverso l'intero universo per recuperare le stelle e ripristinare il funzionamento del Comet Observatory. Una volta riattivato, esso gli permetterà di raggiungere il centro dell'universo dove Bowser tiene prigioniera Peach e lì si concluderà l'avventura con un finale inaspettato. Galaxy, tra i titoli presenti nella collezione, è il più recente e quello che ovviamente regge meglio il peso degli anni. Su Switch gira ad una risoluzione dinamica che arriva fino a 1080p, ma sempre a 60fps, e in modalità portatile fissa a 720p e a 60fps, risultando probabilmente il migliore dei tre titoli. Super Mario 3D All-Stars ha ricevuto recensioni generalmente favorevoli, i tre giochi inclusi sono pilastri del genere platform e ancora oggi risultano molto divertenti. La critica però si è divisa sulla presentazione della collezione. C'è chi ha apprezzato l'idea di lasciare i titoli il più intatti possibile e chi ha ritenuto il lavoro svolto troppo semplice e senza funzionalità aggiuntive, a parte l'accesso diretto alle colonne sonore che possono essere ascoltate anche quando non si sta giocando. In molti poi hanno criticato la scelta di non includere Super Mario Galaxy 2, così come la stravagante idea di commercializzare il prodotto solamente fino al 31 marzo 2021, dopodiché verrà rimosso dal mercato fisico e da quello digitale. Per quanto mi riguarda, come solito per la serie pensieri, posso dirvi quelli che per me sono i tre aspetti positivi e le tre cose meno riuscite di questa collezione, ed inizierei con i PRO. 1 Super Mario è la mia serie di videogiochi preferita. Ci sono cresciuto e li ho divorati da ragazzino, sia sul NES e SNES che sul Game Boy. Quando ho abbandonato il mondo dei videogiochi nel 2002, non avevo avuto modo di provare Super Mario 64 e né potevi mettere le mani su qualsiasi altro suo successore. Poi ho finalmente comprato Switch ed ho giocato Super Mario Odyssey, trovandolo fenomenale ma ignorando completamente quanto avesse preso dai suoi predecessori. Ora, finalmente, grazie a questa collezione, ho avuto e avrò modo di provare con mano quei titoli e quindi di capire realmente ciò che c'è alla base di tutti i platform 3D moderni. Ecco, questo è sicuramente il principale aspetto positivo di Super Mario 3D All-Stars. Questa collection racchiude 3 capisaldi del genere, 3 titoli che io non ho mai giocato e che ora ho finalmente l'occasione di scoprire e gustare a fondo. Inoltre, questa raccolta consente anche a chi li avesse già giocati di riviverli in HD, adattati su un hardware più moderno che ne permette l'uso anche in mobilità, il che non è affatto da ignorare. 2 Stiamo parlando di Super Mario. E per chi come me adora il personaggio, non potrà farsi scappare l'occasione di aggiungere anche questi episodi alla già ampia raccolta presente su Switch. Tra emulatori NES e SNES che contengono gli storici platform 2D più Odyssey, Maker 2, i vari mini-party game ed i porting dei titoli Wii U, di Mario non c'è mai abbastanza. 3 Seppur forse controcorrente rispetto alla massa, io apprezzo il fatto che Nintendo abbia evitato di creare dei remake per i tre capitoli. Sono assolutamente discordanti tra loro, ma questo perché riflettono quelle che erano le peculiarità delle console con cui sono arrivati sul mercato. E secondo me è bello vederli così, è un omaggio al passato e all'inventiva della casa giapponese in grado di modellare i propri giochi plasmandoli sulle novità hardware di volta in volta emesse sul mercato. Inoltre stiamo parlando di tre giochi che vengono eseguiti su di un software di emulazione che probabilmente è ad oggi tra più avanzati mai realizzati, e la sua stessa esistenza è secondo me un chiaro indicatore che presto Nintendo porterà su Switch molte altre vecchie glorie dai vari Nintendo 64, Gamecube e Wii. Non è chiaro se esse potranno arrivare, come è stato con NES e SNES in regalo agli abbonati ai servizi Nintendo Switch Online, oppure se, come in questa collezione, sotto forma di giochi da acquistare singolarmente. Sta di fatto che la casa di Kyoto farà sicuramente di tutto per rispolverare i tanti capolavori del passato, stuzzicando la nostra nostalgia e permettendo a chi come me è stato lontano dalla scena per tanti anni di rivivere tante nuove e vecchie avventure. Per quanto riguarda i contro, 1. Trovo quantomeno bizzarra la scelta di interrompere la commercialità di realizzazione del prodotto a fine marzo 2021. Che ci sia dietro una qualche motivazione particolare oltre a quella di far cassa immediata o provare a trasformare la collezione in feticcio per collezionisti, secondo me sì, anche perché di copia del gioco ne sono state immesse in commercio una valanga, si trova ovunque e sarà ben distribuito per vari mesi, quindi non so quanto essa potrà aumentare di valore col tempo. Di sicuro non tenderà a scendere, ma per me qui Gattachikova. Nintendo avrà qualche sorpresa a riguardo, come magari rilasciare i giochi separatamente oppure distribuendo l'emulatore Nintendo 64 giusto in tempo per il quarto anno di vita della console. È anche vero, però, che anche il nuovo giochino Super Mario 35 in esclusiva per gli abbonati ai servizi Nintendo Switch Online verrà rimosso dal mercato tra qualche mese, quindi quella dietro Super Mario 3D All Stars potrebbe anche essere una semplice mossa commerciale. In ogni caso, non mi sento di premiarla in alcun modo, la vedo soltanto come uno svantaggio per chi ora non ha possibilità di acquistarla e si potrà trovare in possibilità da farlo ugualmente tra qualche mese, quando invece una raccolta del genere dovrebbe restare disponibile per tutti. 2. Concordo con i critici riguardo alla presentazione generale. I minuti gioco sono davvero scarni e anche bruttarelli, o almeno a me non fanno impazzire, e sicuramente si poteva fare qualcosina in più. Inoltre, ok lasciare i giochi il più fedele possibile all'originale, va benissimo, però limitare i contenuti bonus alle sole colonne sonore non so, mi pare davvero poco per festeggiare un anniversario, soprattutto se pensiamo al prezzo di vendita di 60€. Forse un più corretto posizionamento attorno ai 50€ avrebbe addolcito la pillola, ma anche in quel caso Nintendo avrebbe potuto e dovuto sforzarsi un po' di più, magari che so inserendo dei backstage della produzione, oppure semplicemente contenuti anche cartacei da collezione in confezione a maggior ragione se intendono veramente interrompere la vendita a fine marzo 2021. 3. Seppur sia impaziente di giocare a fondo tutti e tre i capitoli della saga 3D di Mario, mi rendo conto che visti con gli occhi di oggi tendono un pochino a tra virgolette annoiare. Dopo aver divorato Super Mario Odyssey o semplicemente qualsiasi altro platform 3D recente, Super Mario 64 al confronto è invecchiato male, c'è poco da fare. Per me sarà dura sopportare quella gestione delle camere fino alla battaglia finale. Sunshine, poi, è quello che in generale mi attira meno come meccaniche di gioco. Sicuramente la gestione del F.L.A.D. era stata modellata per l'uso con un altro controller e quindi armeggiare con i comandi di Switch rende l'esperienza meno fluida o riuscita, il che è un peccato. Infine, Galaxy è forse più divertente in mobilità che sul grande schermo, perché usare lo star pointer con il giroscopio è per me meno appagante che farlo col touchscreen. Niente di così invalidante sia chiaro, ma sono sicuro che il mio completamento delle tre avventure sarà molto influenzato da questi aspetti e mi occuperà per tantissimo tempo con sessioni a riprese sporadiche. Inoltre, da quel che si legge, i giochi sono stati portati su Switch veramente nella loro forma originale, bug conosciuti annessi, ecco quelli forse si sarebbe potuti fixarli. E voi che ne pensate di questa collection? L'avete acquistata? Non vi interessa? Siete soddisfatti o vi aspettavate di più? Fatemi sapere nei commenti, perché sono molto curioso di sapere la vostra! E fatemi anche sapere se avete trovato utile questo video! Bene, direi che mi sono dilungato pure troppo, quindi mi fermo qui. Ci sentiamo alla prossima puntata, ciao! Ciao! Sì, 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 sì. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti